Allora, finalmente siamo arrivati alle statistiche della settimana, come di consueto e a grande richiesta di chi ci segue, chi segue il basket della Serie C Gold della nostra Serie A della Toscana, ci si interroga chi sarà il miglior tiratore, chi sarà il miglior rimbalzista, ebbene siamo qui per ricordarcelo e per in qualche modo immaginare dietro quel numero quale campione, quale personaggio del basket toscano sia. Allora, iniziamo, il miglior tiratore del campionato C Gold toscano è Jonas Risma con 23,93 canestri a partita, segue Kibildis di Spezia con 20 punti e 67 a partita e Radunic di San Giobbe Umana Chiusi 20,33. Il mio rimbalzista, Casoni Federico, continua sotto le plance a dominare con 13,4 rimbalzi, segue un fortissimo Fazio, elemento cardine della squadra di Spezia con 11 rimbalzi a 93 e Ivan Onaiafe, a cui facciamo i complimenti perché abbiamo seguito naturalmente la partita di Next Generation nel aggruppamento di Monaco, nella partita contro il Bayern, abbiamo anche dialogato con gli sportivi nella chat, incoraggiando Ivan perché ha fatto veramente una grande partita e sotto le plance abbiamo riconosciuto il nostro Ivan Onaiafe. Poi come assistman vediamo che Terrosi con 4 assist e 83 a partita domina la scena seguito da Cialuschias che con 4 assist e 27 è davanti i danesi di Prato con 3,2 assist a partita. Chi recupera più palloni? Naturalmente David Cimarelli con due recuperi a partita, in coabitazione con Caponi di Montevarchi, segue Rodriguez di Amens Colabaster, Arezzo con un recupero a 64 a partita. Chi è il miglior tiratore da tiri liberi? Beh quasi al 100% c'è Riccardo Romano 92,45, praticamente non sbaglia un tiro libero. Rodriguez segue con 88,68% di percentuale, terzo 85,51 il validissimo Rossi Emanuele. Poi abbiamo chi è il miglior tiratore da due? Rimane saldo in classifica primo dell'agnello con 74,63%. Segue Tucci, grande Tucci Francesco, molto molto continuo nella sua attività di 4,5 perché sa giocare veramente bene, l'ho visto a Siena e sicuramente della valutazione anche di Spezia ha fatto una grande partita anche se la sua squadra ha perso, è il miglior tiratore da due con il 66,60% di percentuale. Terzo è Risma che è anche da due, essendo il miglior tiratore si distingue con 66,40% di percentuale. Poi abbiamo chi è il miglior tiratore da tre? Ceccherini di Sinergi Valdarno con il 45,24%, segue Chibildis di Spezia con il 43,75% e Staino con 43,56%. Qualcuno che abbiamo conosciuto sabato a Firenze durante la partita Olimpia-Legnaia contro Chiuso ci ha chiesto chi è il giocatore più spettacolare della Serie C Gold Toscana? Ecco, noi lo stiamo identificando, abbiamo qualche idea e gradiremo anche qualche consiglio dagli sportivi che seguono il basket e che seguono come noi il campionato di C Gold. Sicuramente la prossima settimana ci esprimeremo e diremo chi è il giocatore più spettacolare della Serie C Gold Toscana.